Allora ragazzi, video velocissimo, buongiorno a tutti, ripartiamo oggi con la carrellata di video su Cristiano Ronaldo perché secondo me ci siamo. Allora, come vi ho detto nel video di ieri, c'è stato un incontro in serata tra Giorgio Mendes, il procuratore di Cristiano Ronaldo, e Florentino Perez, il direttore sportivo del Real Madrid e Mendes ha ribadito a Real Madrid la volontà di Cristiano Ronaldo di andare via dal Real Madrid. Questo lo spiega anche il programma televisivo Il Ciringuito, il solito programma televisivo che aveva lanciato la bomba all'inizio e il messaggio dell'agente di Cristiano Ronaldo è quello. Nell'incontro è andato in scena praticamente ieri sera con Florentino Perez. Questa quindi è la decisione di Mendes e di Cristiano Ronaldo, quindi Ronaldo pare sia destinato a lasciare il Real Madrid e la Juventus può sperare. La Juventus non ha comunque ancora iniziato la trattativa con il Real Madrid, il prezzo è stato praticamente già fissato che è quello dei 100-120 milioni di euro. Secondo marca poi lo stesso Cristiano Ronaldo si è detto un po' infastidito di questa cifra messa praticamente sul tavolo dal Real Madrid. Praticamente avrebbe detto secondo marca se valgo 100 milioni vuol dire che non mi vogliono. Però caro Cristiano devi anche capire che hai sei 33 anni ma non li dimostri per un miliardo, non te li avrebbe dati mai nessuno e forse la Juve più di 150 milioni non penso si spinga oltre. Poi c'è As, un altro titolo spagnolo, che dice che comunque Ronaldo ha già trovato l'accordo con la Juventus sulla base di 30 milioni di euro di ingaggio e resterebbe solo da raggiungere l'intesa con il Real Madrid. Quindi ragazzi, come ho detto da video e video fa, secondo me è una cosa che si farà perché sono troppe cose che mi lasciano pensare che è una trattativa che andrà in porto e quindi attenderemo sviluppi, secondo me massimo settimana prossima si saprà qualcosa di più. Quindi la volontà di Cristiano Ronaldo con il suo procuratore a detta dei giornali spagnoli è quella di lasciare il Real Madrid perché a Ronaldo il suo procuratore ha dato fastidio al comportamento del Real Madrid per quanto riguarda ingaggio, il fisco e robe del genere. Ma anche lo stesso Cristiano Ronaldo vuole cambiare aria, vuole altre motivazioni, è rimasto un po' spiazzato anche lui dall'addio di Zidane, per lui forse il Real Madrid è alla fine di un ciclo, lui vuole cambiare aria, vuole andare a vincere anche in Italia, altrove. La Juventus ha sempre detto che era una squadra che gli stava simpatica e che seguiva sin da bambino. Questo è quanto ragazzi, seguiranno ulteriori aggiornamenti in giornate sicuramente, però questo è l'essito dell'incontro di cui vi parlavo ieri sera. Quindi lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, grazie a tutti per il supporto, mi state rendendo felice e niente ragazzi, ci vediamo oggi pomeriggio e seguitemi su Instagram JoeGiant.